Ciao ragazzi, benvenuti a Rocca Negra oggi ci siamo divertiti, mi sono venuto a trovare tanti amici Rocca Negra sarà un club nuovo per l'isola di Tenerife partiremo dalle 10 del mattino si potrà prendere il sole su una roccia meravigliosa con tutti i cuscini firmati pomodone, made in Italy abbiamo una collaborazione con Moet Rocca Negra sarà il punto di moda del sud dell'isola di Tenerife dove si faranno sfilate, suoneranno DJ importanti ci saranno show cooking importanti ma si potranno anche fare party divertenti di giorno oggi abbiamo fatto uno shooting con tutti gli amici modelli, modelle, gente divertente sempre con un sorriso stampato sulle labbra perché no, benvenuti a trovare Rocca Negra tra pochissimo aprire i battenti